Buonasera a tutti, oggi è domenica 4 agosto e con oggi sono 73 giorni che trascorro su questa gru, la gru Ursus, la gru galleggiante, ormeggiata nel porto di Trieste. Per quello che vedete alle mie spalle è la città di Trieste, lì c'è il castello di Miramare, Monte Grisa, il Faro della Vittoria, qui sotto c'è tutto il Porto Vecchio, Villa Officina, il centro di Trieste, Piazza Unità, la più bella e grande piazza d'Europa aperta sul mare con i suoi palazzi istituzionali, il Palazzo della Regione, il Palazzo del Comune di Trieste, il Palazzo della Prefettura, il Molo Audace e la gru Ursus. Scusate che mi sistemo un attimo che qui è anche me, eccoci. Ecco, allora io stasera vorrei provare a raccontarvi in modo diverso il motivo per cui io sono su questa gru da così tanto tempo e sono così determinato a portare avanti questa manifestazione a costo anche di farmi ammazzare. Voi sapete che questa gru è un oggetto molto pericoloso, oltre che malsano e credo che non sia difficile immaginare per nessuno cosa vuol dire vivere su un oggetto del genere da così tanto tempo. E voglio provare a farvi mettere nei miei panni soltanto per un attimo e capire che cosa si prova e che cos'è che mi ha portato a essere così caparbio e determinato a fare questa cosa qui. Adesso io mi rivolgo alle persone che hanno più o meno la mia età, che hanno superato i 50 anni, ma anche gli altri. Io spero che possiate in qualche modo mettervi nei miei panni e capire quello che è successo. Adesso immaginate che tutta la vostra vita, il vostro lavoro, i vostri sacrifici, la vostra casa, i vostri sogni, tutti i soldi della vostra vita, tutti, tutti gli investimenti, tutte le vostre passioni, siano cancellate, facciate via di colpo per colpa di una classe politica, marcia, corrotta, fatta di furberie, di incompetenza. Ecco, per colpa di questa gente la vostra vita è stata falciata, non per colpa vostra, non perché avete fatto delle azioni scellerate, degli investimenti scellerati, perché li siete giocati nel casino o perché avete fatto qualsiasi altra cazzata. No, voi vi siete sempre comportati bene, avete sempre lavorato seriamente, onestamente, correttamente, non avete mai avuto noie con la giustizia, non avete mai avuto noie con i vostri dipendenti. La vostra vita è sempre trascorsa con, ovviamente, con tutte le difficoltà che la vita può avere, ma, insomma, però è sempre andata avanti, avete fatto sempre delle belle cose di successo, è indifferente dal lavoro che avete fatto, questo veramente a prescindere, ognuno, immaginate il vostro lavoro, quello che avete amato, che avete fatto tutta la vita, che vi ha dato da vivere e che vi ha permesso tutto un percorso, no, quel lavoro che avete scelto e ha pianificato e vi ha fatto fare un percorso di vita, di tutta la vostra vita. Ecco, tutta questa cosa viene cancellata e quindi è difficile farsi una ragione. Dite, ma, cioè, voi non siete disposti a rassegnarvi, la rassegnazione non fa parte del vostro DNA, non siete neanche disposti a togliervi la vita, come hanno fatto in tanti, lo sappiamo. Io non mi sento di giudicare chi compie un gesto del genere, anche se non lo condivido, però capisco che l'esasperazione può portare veramente a fare cose incredibili. E io, anzi, esorto queste persone a non fare dei gesti così. È meglio piuttosto combattere fino, come sto facendo io, fino all'ultimo sangue che togliersi la vita. Ed è meglio anche che rassegnarsi, come fanno tanti, lo vediamo, no? Io non sono disposto a impasticarmi per sedarmi il cervello, no, come fanno tanti, o buttarmi sull'alcol, no, per frustrati da questo sistema corrotto, marcio e malato che porta migliaia, milioni di persone a impasticarsi, a sedarsi il cervello per sopportare in qualche modo questo sistema malato, che genera poi malati, no? In una società così, ridotta in queste condizioni, in totale decadenza etica, morale, culturale, no? Ecco, io non voglio fare parte di questa cosa qui, no? E quindi non mi rassegno e combatto a modo mio, con tutte le mie forze e lo faccio pacificamente perché sono una persona pacifica e provate a immaginare a mettervi nei miei panni, no? Molti dicono, beh, ma io fossi stato in te avrei abbracciato i fucili e gli avrei sparato in faccia a questa gente qui, no? A questi schifosi. Ma io non sono una persona violenta, non riuscirei mai a fare una cosa del genere, per cui combatto con l'unico mezzo che ho, no? Con la forza delle mie ragioni, con la forza della mia volontà, della mia determinazione, anche rischiando la mia vita, perché è l'unica cosa che posso rischiare, è la mia vita. Io non riesco a rispondere alla violenza, alla loro violenza, l'abbiamo visto, una violenza che si traduce in mille modi, no? Questa loro violenza verbale. E quindi voi provate a mettervi nei miei panni e immaginare che questa cosa qui, immaginate che poi a un certo punto andate in giro per l'Italia a chiedere informazioni ai politici, ai sindacati, ai giornalisti. Evitate da fare, no? Come avete sempre fatto, perché siete così, siete persone di azione, no? Quindi cercate di trovare una strada che vi porti su un piano di giustizia, no? E quindi raccogliete tutte le informazioni da avvocati, politici, sindacati e capite, arrivate alla conclusione che è tutto completamente corrotto, marcio, e non c'è niente da fare e non c'è nessuno che vi salverà. E quindi dovete attivarvi voi da solo, come potete, proprio perché non volete rassegnarvi e non volete togliervi la vita. E vi attivate e fate manifestazioni, no? Di protesta, forti, eclatanti, perché è l'unica cosa che potete mettere a repentaglio la vostra vita. Non volete rispondere alla violenza con altra violenza e quindi manifestate pacificamente, come faccio io. E capite che i sindacati sono corrotti, sono compromessi, c'è questa commissione, questo intreccio di interessi tra politica, sindacati, stampa e non sapete veramente come difendervi da questo marciume. E però andate avanti perché sapete che avete ragione, perché sapete che quello che vi stanno portando via è tanto, tantissimo. E non siete neanche disposti ad accedere a questa narrazione che cercano di fare dicendo beh, ma insomma puoi sempre provare a rimetterti in gioco, lascia perdere, rassegnare, tu sei bravo, costruisci un'altra impresa, no? Eh sì, così io costruisco un'altra impresa in modo che questi criminali possono tornare a portarmi via di nuovo la mia impresa. Dite, eh no caro, prima mi restituisci il mio malloppo e mi restituisci la fiducia in questo paese e in questa società e poi io ricostruirò un'altra bella, sana e produttiva impresa come ho sempre fatto, ma non prima di questo. Prima riprendo le mie cose e poi torno a fare la mia vita. E queste ecco persone se lo devono mettere meno in testa, che io non mollerò mai a costo di farmi ammazzare, questo sindaco se lo deve rendere ben conto che io sarò un problema ad vitam per lui se non risolverà il problema e avrà un problema di finizio, ad vitam, no? E quindi voi che torno a farvi mettere nei miei panni, no? E quindi fate queste manifestazioni, voi che non vi perdete d'animo e quindi andate a Roma, andate sulla cupola di San Pietro, rischiate la vita, poi parlate con altri prelati, parlate con ministri autorevoli che vi promettono, che si impegnano a risolvere il problema perché capiscono che effettivamente avete ragione, perché le cose che dite sono assolutamente di buonsenso, sono ragionevoli, sono condivisibili, sono sacrosante e quindi si impegnano davanti a Dio, ai uomini, alla stampa, al Papa che si daranno da fare e invece mentono, scoprite che mentono e come si spegnono i riflettori, spariscono. Allora voi veramente, cioè non ci potete credere, voi che avete creduto a questa gente ma non potevate fare altro perché siete delle persone pacifiche e quindi continuate a credere a queste persone, continuate a parlare con i ministri, con parlamentari che continuano a impegnarsi e continuano a mentire. E quindi voi manifestate in tutti i modi, fate scioperi della fame, scalate la cupola di San Pietro, l'Usus, perché comunque non volete rassegnarvi a questo sistema, non volete togliervi la vita e pensate prima o poi qualcosa deve succedere, è impossibile che non succeda. E quindi a un certo punto incontrate un sindaco che è sollecitato da un prefetto che si rende conto che effettivamente di schifezze sono state fatte anche troppe su questa vicenda e allora sollecita il sindaco a fare qualche cosa. E questo sindaco in effetti vi promette, si impegna a risolvere il problema, vi propone delle collocation alternative alla quella che voi avete perso, all'impresa che avete perso e vi fa tornare a sperare anche lui. E voi siete delle persone pacifiche, ci credete, non potete fare altro perché non siete capaci di ammazzare a nessuno, di sparare in faccia a nessuno, no? Anche se molta gente vi dice questa cosa qua, eh sì, se voi, se fossi stato in Taiyoia avrei sparato in faccia a questa gente, però noi sappiamo che sono tutti eroi e guerrieri con il sedere che hai degli altri, no? Ma io comunque rimango una persona pacifica e combatto a modo mio e probabilmente si approfittano per questo, ma io continuerò con i miei metodi pacifici ad andare avanti, questo è poco ma sicuro e sarò un problema e sarò sempre un grosso problema per loro e per questo sindaco. Comunque, allora, insomma, voi credete a questo sindaco e poi scoprite che in realtà questo sindaco anche vi stava mentendo, che vi stava promettendo delle cose che non poteva promettervi e che addirittura non erano neppure nelle sue disponibilità e vi stava prendendo in giro, consapevole di prendervi in giro, vi stava vendendo persino una fontana di trevi, l'ennesima fontana di trevi e voi non ci potete credere, dite non è possibile, cioè questa persona stava veramente giocando per l'ennesima volta dopo tutto quello che avete passato, stava giocando con la vostra vita, cioè provate a mettervi nei miei panni, la vostra vita è stata messa nelle mani di un personaggio, questo sindaco, Roberto di Piazza, questo uomo grasso, vecchio, sudaticcio, tronfio che cammina per la città tutto impettito, tronfio di ego, di vanità a 65 anni, un uomo, questo vecchio uomo che si vanta persino di avere una giovane moglie, bella, giovane moglie, proprio questa cultura da toro maschio latino, pensate, c'è la vostra vita nelle mani di chi è finita, di questo uomo di 65 anni che si vanta di avere persino una moglie giovane, ma rendiamoci conto, non riuscite a credere, non ve ne fate una ragione, non è possibile, non è possibile che la vostra vita sia stata affalciata e che un uomo del genere possa prendersi gioco della vostra vita e andate avanti ed è per questo che io sono qui sopra e non mollerò mai, a costo di farmi ammazzare, non è possibile, non è possibile che la mia, la vostra vita sia in mano di un personaggio così orrendo, così schifoso, un personaggio che riesce a fare una roba del genere, è inaccettabile, è inaccettabile, per me è almeno inaccettabile, io non sono disposto a mollare, ma neanche di un millimetro e quindi io vado avanti così, io non so voi se riuscite a comprendere cosa vuol dire questo, però in qualche modo queste persone hanno influito nella mia vita, hanno distrutto la mia vita e influiscono comunque nella vostra, in un modo o in un altro, perché è questa la cultura che sta passando, questo uomo comunque continua, nonostante che sia stato invitato più volte a un confronto pacifico davanti a delle telecamere con il certo scritto, si nega, e questo è inaccettabile per chiunque, per tutte le persone oneste di questa città, è inaccettabile perché sappiamo tutti quanti che nessun sindaco onesto sulla faccia della telecamere,